Sono molto molto contento, sono grato alla Regione Abruzzo di aver riconosciuto questa mia passione ed è bello sapere che prossimamente si potranno fare cose anche qui. Sono contentissimo di sapere della Film Commission, quando sono stato invitato la prima volta sono venuto con il cuore pieno di gioia perché io penso che ci siano tante storie da raccontare e mi chiedo ma perché non qui, che è un luogo bellissimo dove io ho una grandissima parte del mio cuore. Il 14 dicembre uscirà Adagio nelle sale cinematografiche, un progetto del quale sono molto contento e prossimamente ci saranno anche altre serie cose di cui adesso non si può dire nulla. Speriamo di poter portare il primo progetto che faremo insieme con altri due colleghi e speriamo di poter fare questo progetto qui.